L'arbitro ha già dato il via alle danze. Bambastan! Un buon momento di calcio! Un gol magnifico! Bambastan! Paggisung! Paggisung! E colpisce il polo! È il mostro! Paggisung! Fue da lì! E partita assolutamente nella loro. Dando il flipper che si è cambiato. La difesa va stricciato e lui gli affinì! Sì, 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 confuso. Sì, sì, confuso. Sì, sì, confuso. 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 Sì, confuso.